Questa avventura parte da Loreggia, una piccola comune della provincia di Padova. E tutto inizia grazie a lui, a Leone Vollenborg. Una terra che aveva conosciuto i fasti di un passato glorioso nei secoli d'oro della Serenissima, ma che in quel tempo mal sosteneva le sue comunità. Povertà, malnutrizione, malattie costituivano un triste primato per le campagne venete. Ed è qui che il seme di Loreggia nasce, cresce e porta frutto in tutta Italia. Da questo seme nascono e si sviluppano le prime casse rurali italiane. Grazie a tutti.